L'astrologo indiano ha nominato i quattro segni zodiacali più ricchi nel giugno 2024. Ciao amici, oggi abbiamo nel nostro programma un'entusiasmante scoperta astrologica di un famoso astrologo indiano, che ha nominato i quattro segni zodiacali per i quali il destino sta preparando enormi ricchezze nel giugno 2024. Se sei interessato all'astrologia o semplicemente vuoi sapere se il tuo segno potrebbe rientrare tra questi fortunati, allora questo video oroscopo fa sicuramente il caso tuo. In questo video non solo scopriremo chi sono questi quattro segni, ma parleremo anche di cosa li porterà esattamente a un tale successo finanziario. Daremo uno sguardo più da vicino a quali aspetti planetari e transiti favoriscono la loro fortuna e cosa può fare ciascuno di questi segni per sfruttare al meglio le opportunità future. Non perdere i nostri consigli e suggerimenti per affrontare a testa giugno 2024. Iscriviti al nostro canale, attiva le notifiche per non perdere nemmeno un video e scopriamo insieme chi sono queste prescelte star destinate alla ricchezza. Il primo segno è la Vergine. Secondo un astrologo indiano, giugno 2024 promette di essere un punto di svolta nella vita dei rappresentanti del segno zodiacale della Vergine, poiché diventeranno significativamente più ricchi. Questa previsione si basa su posizionamenti planetari favorevoli che promuovono la crescita finanziaria e il successo. L'astrologo sostiene che la Vergine può aspettarsi flussi di cassa significativi durante questo periodo, magari sotto forma di eredità, contratti redditizi o grandi rendimenti sugli investimenti. Inoltre, il successo arriverà non solo attraverso i canali tradizionali, ma anche grazie a idee nuove e innovative che i Vergine saranno in grado di implementare con successo. In questo contesto, l'astrologo consiglia alla Vergine di prestare particolare attenzione alle nuove proposte e progetti, soprattutto quelli legati alla tecnologia e all'economia digitale. Ora più che mai è importante essere aperti a nuove opportunità e non aver paura di introdurre approcci moderni nel proprio lavoro. Inoltre, una ricchezza significativa può arrivare alla Vergine attraverso partenariati e accordi internazionali. I pianeti indicano che è l'interazione con colleghi stranieri che porterà grandi profitti. I Vergine dovrebbero sviluppare attivamente le proprie competenze linguistiche e la conoscenza del mercato internazionale. L'astrologo sottolinea inoltre che giugno sarà il mese in cui i Vergine dovranno prestare attenzione non solo al lavoro, ma anche alla crescita personale. Imparare a gestire le proprie emozioni e lo stress sarà fondamentale per mantenere la resilienza durante un periodo di elevati flussi di cassa. Inoltre, si consiglia vivamente di coinvolgere consulenti e pianificatori finanziari. La loro esperienza aiuterà i Vergine a gestire con competenza le plusvalenze improvvise, evitando investimenti non redditizi e trappole fiscali. Infine, l'astrologo indiano ricorda alla Vergine l'importanza della beneficenza e del sostegno ai progetti comunitari. Condividere parte della tua ricchezza con coloro che ne hanno bisogno non solo aiuterà a migliorare la vita degli altri, ma attirerà anche ulteriore fortuna nella vita della Vergine. Quindi, giugno 2024 promette di essere un mese significativo e molto redditizio per la Vergine, che può cambiare per sempre la loro situazione finanziaria e il loro percorso di vita. Il secondo fortunato è il Sagittario. Un astrologo indiano fa un'audace previsione per il segno zodiacale del Sagittario, sostenendo che avrà un significativo successo finanziario nel giugno 2024. Secondo lui, la posizione favorevole dei pianeti durante questo periodo diventerà un catalizzatore per l'afflusso di grandi quantità di denaro nella vita del Sagittario. L'astrologo sottolinea che il Sagittario dovrà affrontare opportunità di guadagno uniche che possono cambiare la sua condizione finanziaria. Queste opportunità possono arrivare attraverso investimenti, progetti ben pagati o contratti significativi che si presentano all'improvviso. In particolare, i Sagittari sono incoraggiati a prestare attenzione ai settori legati alla tecnologia e allo sviluppo globale. Al loro successo finanziario contribuiranno soprattutto le start-up innovative o i progetti legati all'espansione in nuovi mercati. L'astrologo consiglia ai Sagittari di essere preparati a decisioni e azioni rapide, poiché molte di queste opportunità finanziarie potrebbero apparire inaspettatamente e richiedere attenzione immediata. La flessibilità e la capacità di adattarsi rapidamente al cambiamento saranno fondamentali in questo periodo. È anche importante che i Sagittari rafforzino le loro connessioni e reti commerciali. Incontri e conferenze, soprattutto quelli internazionali, possono essere estremamente utili per ampliare i propri orizzonti professionali. L'astrologo invita il Sagittario a prendere parte attiva alla pianificazione finanziaria. Lavorare con un consulente finanziario li aiuterà a allocare i profitti in modo ottimale e a investire per il futuro, garantendo così ricchezza a lungo termine. Oltre a ciò, l'astrologo ricorda l'importanza di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Nei periodi di grande successo finanziario è facile perdere di vista le relazioni personali e il benessere, il che può ridurre la qualità della vita. L'astrologo indiano sottolinea infine che per il Sagittario questo periodo sarà un momento di importanti lezioni e di crescita personale. Il successo arriverà non solo sotto forma di denaro, ma anche come opportunità per sviluppare e comprendere i tuoi valori e obiettivi. In generale, giugno 2024 promette di essere estremamente fruttuoso per il Sagittario, offrendo loro molte opportunità di significativa crescita finanziaria e sviluppo professionale. Terzo leone fortunato. Un astrologo indiano fa un'entusiasmante previsione per il segno zodiacale del leone, indicando il loro significativo successo e ricchezza nel giugno 2024. Questo è un momento in cui gli aspetti planetari sono particolarmente favorevoli per il leone, offrendo loro opportunità di crescita finanziaria e sviluppo professionale. L'astrologo sottolinea che i leone dovranno affrontare una serie di opportunità uniche che possono cambiare radicalmente la loro carriera e aumentare il loro reddito. Queste opportunità possono includere offerte di collaborazione, nuovi progetti o investimenti redditizi che nasceranno attraverso la propria rete di contatti o nuove conoscenze fatte nei mesi precedenti. I pianeti sono inoltre destinati a migliorare le qualità di leadership del leone, il che lo renderà particolarmente attraente per posizioni dirigenziali o ruoli in grandi progetti. Si consiglia ai leone di utilizzare questo periodo per promuovere i loro piani ambiziosi e di non aver paura di assumersi la responsabilità. Inoltre, giugno 2024 sarà il momento in cui i Leo dovrebbero essere particolarmente attivi nel networking. Eventi, conferenze ed eventi sociali saranno particolarmente fruttuosi, aprendo le porte a nuove opportunità e rafforzando i rapporti commerciali esistenti. Dal punto di vista finanziario, l'astrologo prevede un aumento significativo delle entrate, ma mette anche in guardia il leone dalle spese inutili. Si consiglia di investire in attività a lungo termine che forniranno stabilità e crescita continua. Gli immobili, i titoli o gli investimenti in startup possono essere buone opzioni. Si consiglia inoltre ai Leo di prestare attenzione allo sviluppo delle proprie capacità e istruzione. Corsi di formazione avanzata, formazione nelle nuove tecnologie o anche l'apprendimento di nuove lingue possono aumentare significativamente il loro valore come professionisti e aprire loro nuove porte. L'astrologo indiano ricorda inoltre ai leoni l'importanza di mantenere la salute fisica e mentale. Il successo e la ricchezza arriveranno, ma non dovrebbero andare a scapito del benessere personale. Imparare a rilassarsi e a trovare tempo per sé e per i propri cari sarà fondamentale durante questo periodo stressante. In conclusione, giugno 2024 promette di essere piuttosto significativo per i leone, offrendo loro opportunità eccezionali per raggiungere il successo e accumulare ricchezza. È importante che i Leo utilizzino questa opportunità con il massimo beneficio, senza perdere una sola opportunità. Il quarto segno è il capricorno. Un astrologo indiano prevede che giugno 2024 sarà un anno di grande successo finanziario per il segno zodiacale del capricorno. Secondo lui, a causa della posizione favorevole dei pianeti, i capricorno possono aspettarsi un significativo afflusso di denaro, che può cambiare le loro vite. L'astrologo sottolinea che la configurazione astrologica unica di giugno consentirà ai capricorno di realizzare idee e progetti di lunga data, che possono portare grandi profitti. Potrebbero trattarsi di investimenti, nuove iniziative imprenditoriali o grandi contratti che si riveleranno estremamente redditizi. Si consiglia ai capricorno di prestare particolare attenzione alle nuove offerte durante questo periodo. L'astrologo consiglia di non perdere le occasioni, anche se a prima vista sembrano rischiose. Questo è il momento in cui dovresti agire con coraggio e decisione. I capricorno sono anche incoraggiati a intensificare i loro sforzi di networking. Incontri, conferenze ed eventi sociali possono portare a contatti e collaborazioni importanti che saranno la chiave del successo finanziario. L'astrologo sottolinea l'importanza di un'attenta pianificazione e gestione delle risorse. I capricorno, noti per il loro pensiero strategico, devono utilizzare queste qualità per massimizzare i propri rendimenti e minimizzare i rischi. L'astrologo indiano mette in guardia anche i capricorno dal spendere troppo durante un periodo di possibile abbondanza finanziaria. Dovrebbero invece pensare a investimenti a lungo termine e alla conservazione del capitale che garantiranno loro stabilità finanziaria per molti anni a venire. È possibile che parte del reddito provenga da fonti inaspettate, ad esempio da un'eredità o dal rimborso di debiti. I capricorno dovrebbero essere preparati a vari scenari e gestire efficacemente i fondi imprevisti. L'astrologo consiglia inoltre ai capricorno di investire nella loro istruzione e sviluppo professionale. Le competenze acquisite durante questo periodo possono aumentare significativamente il loro valore sul mercato e aprire nuove fonti di reddito. Infine, l'astrologo sottolinea che il successo nel giugno 2024 non dovrebbe far dimenticare ai capricorno la loro vita personale e il loro benessere. Bilanciare il tempo tra lavoro e divertimento sarà importante per mantenere la salute e il benessere nel tuo percorso verso il successo finanziario.